Il culo è allo stato tedesco Risparmiamo 50 centesimi al litro per il diesel Stiamo usando olio per friggere, guarda Ma sai cosa ne facciamo di questo olio? Non ve lo dico ancora Faccio una sorpresa Allora Non lo faccio pieno per fare più in fretta E' olio puro, eh? Andiamo, vieni Vi faccio vedere cosa facciamo adesso Poi andiamo a usare dettagli Mi raccomando però non fatelo con il benzina Può essere pericoloso Soltanto con il diesel Va bene? Tutto questo avviene in Germania Allora, guarda qua Non staccare mai la camera Guarda come scende bene L'olio E ci facciamo il pieno della macchina con l'olio Il diesel ormai costa quasi 1,60 euro È troppo Però se ci vede essere petrolieri, eh? Eh, sono cavoli amare Andiamo a fare un culo di shake Andiamo a vedere Come brucia bene la macchina Vieni, vieni Vieni, vieni 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 Che fa? Ho fatto quasi il pieno Peccato che non potete sentire l'odore di patate fritte Questa è questa Vuoi vedere se fa fumo bianco dietro? Mi ha fatto? Che ha un olio di patate fritte Che sembrava una macdonald Qua Vieni, vieni Mi raccomando, non fatela col benzina Solo con il diesel Il consiglio di Peppe Usando olio ho già fatto circa 30.000 km La macchina è apposta Come il primo giorno che l'ho comprato L'ho risparmiato intorno a 550 euro Su una somma di 1.000 euro Avrò dovuto spendere 1.500 euro Perché regala le soldi all'olio? Quindi, d'ora in poi, olio Vieni, vieni Vieni, vieni